Vedo una storia che sembra un piccolo miracolo di Natale. Una bambina, era ancora nel grembo della mamma, quando durante l'ecografia vedono che ha una massa, una massa grande quasi il suo cuoricino, era proprio lì vicino al cuore. L'hanno operata ed ora sta bene. Se guarda questa bambina cosa prova? Affetto, devo dire che affetto è la parola giusta. Dorme serenamente tra le braccia della sua mamma, la donna che ha luttato con tutte le sue forze per farla nascere e non si è mai arresa, neanche quando i medici in gravidanza ne hanno comunicato che un tumore benigno stava crescendo attorno al cuore e ai polmoni della sua bambina. Rimuoverlo richiedeva senz'altro un delicato intervento, reso ancora più difficile dal fatto che la piccola paziente era ancora nella pancia della sua mamma. Da poco più di un mese la bambina è ricoverata qui, in terapia intensiva neonatale, al Policlinico di Milano. In 25 anni di esperienza non mi sono mai trovato a gestire un caso del genere. Il cardiochirurgo, come è che come ha lavorato, del Policlinico San Donato, anche per lui è stata la prima esperienza. Abbiamo dovuto fare un intervento già in epoca fetale ed è proseguito dopo qualche giorno di vita con un intervento eccezionale, estremamente complesso, che ha previsto specialità estremamente elevate. Ci hanno consentito di aprire il torace della bambina, aprire il sacco nel quale il cuore è contenuto, estrarre questo grosso tumore e richiudere nel pieno rispetto delle strutture vitali della bambina. Oggi Miriam, nome di fantasia, sta bene. Viene alimentata con il biberon dalla sua mamma, che la stringe forte a sé e la culla con amore. Il suo cuore di neonata batte forte. Oggi pesa quasi tre chili e possiamo anche dire che speriamo proprio che passi il Natale a casa sua. Già, Natale.